Ancora una volta i tavoli romani potrebbero decidere il futuro del governo regionale abruzzese. Infatti i leader locali dei partiti di maggioranza segnatamente Lega e Forza Italia e il presidente Marsilio non riescono a trovare l'accordo sulla divisione degli incarichi in giunta e dunque potrebbe essere risolutivo proprio l'incontro fra il capo del carroccio Matteo Salvini e il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi per varare la nuova giunta ancora ferma in porto a due settimane dal 10 di febbraio. La Lega sembra intenzionata a non fare sconti agli alleati e chiede quattro assessorati più la presidenza del consiglio. In più il coordinatore regionale delle camice verdi Giuseppe Bellachioma, forte del risultato ottenuto dalle urne, ribadisce la linea nazionale rispetto alla scelta degli assessori in base alle competenze e non alle preferenze ottenute. Forza Italia dal canto suo non vuole cedere ai diktat del carroccio e chiede due assessorati guardando favorevolmente ad un impegno in prima linea nel settore della sanità su cui i tre consiglieri azzurri Febbo, Sospiri e De Annuntis in queste due settimane si sono spesi in maniera decisa. Quella in atto dunque è una vera e propria guerra di posizione che riflette a livello locale la distanza fra Salvini e Berlusconi sul piano nazionale. Nel frattempo dal versante Fratelli d'Italia arriva la strigliata del sindaco di L'Aquila Pierluigi Biondi che lancia il tema del riequilibrio dell'economia fra aree interne e costa. Per il primo cittadino del capoluogo di regione uniformare i processi economici dei territori è la madre delle sfide per il nuovo governo regionale chiamato ad affrontare e superare il modello di una bruzza a due velocità, tema che si allaccia anche a quello della ricostruzione, primo punto da affrontare secondo il governatore Marsilio. Tornando al totonomi per gli assessorati, chi sembra sicuro del posto in giunta con anche la delega già in tasca per il turismo e Pietro Quarisimale il più votato del carroccio in provincia di Teramo. Ho fatto una buona esperienza a Campi, Campi come sapete è entrata nei borghi più belli d'Italia a seguito di tante iniziative basate sulla promozione del territorio che secondo me mancano in Abruzzo in cui vorrei dare il mio sostegno affinché la nostra bellissima regione in cui le distanze sono avvenute risorgie tra mare, colline e montagna sicuramente possiamo pubblicizzarle al mondo affinché tanti turisti possono venire sul nostro territorio.